quasi per iniziare il primo incontro ore 16 black flag contro barrio barrio che è in testa la classifica a 14 punti sta per incontrare un black flag che di punti ne ha solamente tre detto prima black flag che stanno navigando in acque un po basse in cinque partite hanno solamente raccolto tre punti sare arriva come ad aguilar paraca non esce attenzione numero in mezzo mezzo gomez poi aguilar arriva treco ancora parte il barrio tenta in porta alla parata palla in mezzo testa di aguilar sant'angelo ancora calcio in porta grasso in due tempi latine la pronto divinto c'è una bomba aguilar attenzione vinci guerra ruba vado mattino è esposito arriva con destra mazzocca palla a sant'angelo che fa un gol incredibile 1 a 0 pronto brian che tenta a giro palla bassa da tonelli che può inventare tenta direttamente palla sulla barriera c'è rullo tenta brian lancia aguilar la mette giù ancora aguilar sant'angelo ora sant'angelo tenta in porta gioco a centrocampo ma io mi sposto un po ma zocca sant'angelo può inventare tenta in porta palla e mezzo è esposito di tacco rigore parte esposito col sinistro porta di nuovo barrio 1 a 1 e subito treco esposito come faccia in mezzo non ci arriva di la torna indietro da divinto attenzione treco ruba palla a dilar non c'è nessuno che calciato messo divinto salva arriva a brian si coordina tenta in porta terminata treco ancora non ci arriva da come ramirez va in mezzo a dilar vado a brian che tenta in porta la palla che accarezza faccia brian di testa testa anche di treco e aguilar finisce qua il primo tempo risultato bloccato sull'1 a 1 tutto brian inizia così secondo tempo con il tiro di brian dominguez falla fuori sbaglia gomez può approfittare ancora gomez greta in porta in mezzo marzocca wendel di testa cercato in mezzo può partire marzocca cerullo tenta poi valla c'è l'ha ancora bet freddo la perde adesso esposito passa in mezzo a 2 ancora esposito si vada come mezzo che può andare in porta rischia ma riesce a passare brian sceglie ramirez che usa bene la testa ancora ramirez la parata di cavalli che azione questa di ramirez ancora in buca c'è il black flag in vantaggio 2-1 il black flag brian non ci sta e tenta è in porta ancora palla sta ribattuta subito brian di forza prende palla e calcia c'è rullo salva che calcia ancora ramirez che blocca la palla che bel secondo tempo di ramirez il numero 4 ha sparato un filuro 2 a 2 mamma mia super gol di ramirez mezzo di vinto aguilar tenta giro sinistro cerca proprio aguilar che aggancia calcia la tocca brian la parata del barrio con erlindo martinez tutto è nato da brian c'era chi voleva anche il bambino perdesse invece barrio in questo momento è in vantaggio che non è in vantaggio c'è nulla c'è nulla c'è nulla c'è nulla c'è nulla sola mia c'è nulla c'è nulla bene chius錯 di sant'anzio la scuola fatte subito tramite ancora la testo di vinto come in mezzo attenzione la verde ma la ritrova divinto va subito in avanti bottino palla in mezzo cavalli da uno scappa la palla ancora ma c'è più tempo 3 a 3 bello 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 siamo qua alla fine di una bellissima partita complimenti ad entrambi partiamo prima da te dai che che devi andare via allora la miret si è entrato appena entrato subito hai messo il tuo zampino in campo ci hai provato la prima volta che non è venuta ma la seconda è stata bellissima bellissimo ma è stata una bella partita siamo giocato tranquilli senza fare male a ognuno è così la partita e mobili e mo fatto il pareggio e mostra una partita tranquilla secondo consecutivo adesso quota 15 con una partita in più potevamo lavorare nel più perché abbiamo fatto due due pareggio consecutivi ma devo fare più impegno per una partita e niente andiamo avanti sempre grazie andiamo da divinto allora come detto prima stagione stregata la vostra non riuscite più a vincere la solamente una vittoria chiaramente una vittoria e se ne andava andate avanti più volte però poi che successo è successo che siamo colati mentalmente oggi abbiamo avuto una minima reazione abbiamo il vetto e prendiamo sempre tutti i gol perché vabbè ricorrere io personalmente non ho visto quindi non ci so dire se c'era o meno poi l'ultimo gol purtroppo una palla vacante alla mezzo e comunque contro loro che sono veramente forti è già un grande risultato aver fatto un pareggio comunque combattendo ok quindi dalle prossime con questa mentalità è sicuramente risultati arriveranno si spera saluto attenzione alle scimmie saluto chi dedichi la tua prestazione la prestazione è Marco Lanza ciao ragazzi